La Juventus a prima mera, allora è 14.30 di questo tipito sabato pomeriggio, ospita la formazione emiliana. La sfera viaggia sulla sinistra, Ferra Beruato, la verticalizzazione, dritto per dentro cercano Morselli, posizione regolare del numero 9. Morselli se ne va ancora sulla sinistra, il cross morbido, secondo ballo, poco di testa e la parata su una giocata di Macek. Bravissimo Liotti a dire di no, la prima grande opportunità del match per la Juventus. Anche di Rizzo, si chiude il triangolo, Lirola, ma ancora il cross in mezzo, l'uscita plastica di Liotti fa suo e pallone. Salusti una conclusione, la parata da parte di Audero, bravissimo, nel posto giusto al momento giusto. La giancio di Dorazio, perde la sfera, Macek va verso la porta, attenzione, destro di Macek, la parata da parte di Liotti. Una bella conclusione del centrocampista della Repubblica Ceca, Pellini, Vitale, Rasoterra, buona azione questa è la Juve, ancora parata di Manelli, Castanos, Morselli, Vitale. Tutto nello spazio di una pazzoletto, Macek, Macek è dentro, attenzione, cercare Vitale! E la palla ancora di Manelli e fuori, incredibile, gol di Morado dalla Juventus. Per Rappellini, di gran carriera, il numero 4, Rappellini dentro, attenzione, a cercare Morselli! La parata da parte di Liotti, calcio d'angolo, Favilli, Favilli sederà in capo aperto, sulla sinistra, tiene lontano Rizzo, Favilli, pallone in mezzo, attenzione, palla che arriva verso Macek, la parata del portiere! In due tempi, Juventus...